Il tavolo di coordinamento convocato oggi dal Parco del Mincio nasce soprattutto dopo la recente azione del Comune di Mantua di revoca del divieto di balneazione sul Lago Superiore. E questa è una delle importanti azioni contenute all'interno del contratto di fiume di cui oggi vengono presentati gli aggiornamenti delle schede che rappresentano le azioni che ogni soggetto che ha aderito, sottoscritto il contratto di fiume, ha messo in campo. All'inizio erano più di 66 le azioni del Lontano 2016 quando è stato sottoscritto il contratto. Oggi in essere ci sono 90 azioni messe in campo con 9 progettualità. Oggi vengono presentate 51 aggiornamenti a tutte queste schede a significare che il contratto di fiume sta percorrendo, sta proseguendo e quindi questo significa che le azioni vengono portate avanti. Il risultato della balneabilità è sicuramente un risultato importante, merita per quanto riguarda l'ente parco e le azioni da parte dell'ente parco segnalare il recente ottenimento di un contributo per la predisposizione dei piani di gestione delle riserve. In questi piani di gestione delle riserve un'azione importante sarà la particolare attenzione che verrà posta all'interno del lago superiore, soprattutto per un'attività di coordinamento di quello che è il futuro della balneabilità ma nel rispetto della biodiversità. Ma cosa cambierà con la balneabilità del lago? È chiaro che non dovrà cambiare nulla rispetto alle fragilità che debbono essere mantenute e anzi migliorate di quel sistema di biodiversità rappresentato dalle riserve naturali, dai siti di protezione speciale. È chiaro che tutto dovrà essere contemperato con anche quelle che sono le esigenze di questa azione importante che consente di vivere il lago, di vivere l'acqua anche da un punto di vista di turismo, turismo ambientale e per questo sostenibile.